Sì, è abbastanza probabile, però c'è... Quanti sono? Sono quasi finiti. No, non è vero, sono miliardi. Sono finiti. Cosa? Sono morti a tutti istantaneamente, a caso. Oh, li stiamo attaccando anche noi. Oh, figo, figo, figo. Le mie blaze sono potenti. Eh, no, no, hanno fatto un praticamente... Gli abbiamo tolto due puntini, a noi quanto ci hanno tolti? Uh, miliardi. Schifo. Grazie. Buola, buola. Aspetta, metto torri anti-blaze. Sono i turrets. Metto due... Metto due torri anti-blaze. Basta io adesso vado di torri, perché... Devi mettere arcieri e turrets, che le turrets sono le arcieri potenti. Che metto solo arcieri? Eh, no, metti anche altra roba. Metti anche ghiaccio. Veleno, non so. Oh, guarda, guarda, oddio, guarda le mie torrette quanto gli fanno male. Gli fanno un male assurdo. Bravo. Ne arrivano tre, uno con tanta vita, gli altri con poca. No, non è vero, sono esplosi tutti. Ok, perfetto. Mi piace così. Eh, allora, questa è me l'upgrade al 2. Ah, ma questi sono netromanser, io volevo credere questi in verità. Ho fatto una schiera di dubbio... Quanto di Shuzzarro, Aromas... Oh! Quanto di Shuzzarro, Superlong, Target Range, Shuzz very fast. Quanto mi costa? Madonna! 1200 coins. Costa un bordello, costa più che mettere la torre e upgradearla. Vai a menare, vai a menare, anzi, nemmeno anch'io. No, arrivano tante plays, eh, le dobbiamo menare. Ho fatto un bordello di xp, solo per dei soldi. Oh no, romari! No, ma sono due plays abbastanza povere. Adesso è solo una. Ok. E' un'altra, 580 xp, eh, vabbè, quanto. Level 2? Ok, questa qui, turret, con questo potenziamento, è assurda. Andiamo ad un altro quanto costa 1100, mi upgradeo pure quella, questa è roba assurda, eh. Io tanto mando un'orgia di ragni solo per guadagnare xp. Vediamo se gli stiamo arrivando, no, eh, non gli stiamo arrivando. Sogniamo ad andare le plays, le plays sono potentissime. Sono assurdamente potenti, però... Ma cosa cambia upgradeare... Ma non ha senso. Cosa? Ci sono tipo due file. C'è quella sopra e quella sotto. Delle torri? Sì. Eh, cambiano, hanno dei poteri diversi, leggi lì, vai sull'oggettino che c'è in fondo alla file, leggi cosa fanno. No, lo andò a lavoro. Ah, ok, allora metti a caso. Xplosivis Better. Cosa vuol dire? Non so in inglese. Che gli esplosivi sono migliori, ma che esplosci. Ma chi se ne frega? Ah, è esplosiva rosso quella roba lì. Ah, non so come si fa. Eh, clicchi su quello. ma no ma vabbè ormai c'è allora poi ne metterò ti può partire così non ci penso neanche a rimettere l'arcieri ho pagato un bordello di soldi e adesso devo togliere rimettere l'articoletto vabbè ormai lascia che c'è chi se ne frega io qua ne mette queste come la grade in modo che faccio ho tanto il forte ma non mi sembra che sia l'unico che l'abbia fatto praticamente no forse non provo arrivano voglio vedere come si comporta la mia difesa anti blaze guarda è guarda le mie torri questi menano duro eh però se menano i pigmen al posto delle blaze è un po' un problema oh le mie freccette esplosive fate schifo una blaze è arrivata con 165 di vita ma le torri quelle lì della base sono le più forti di tutte e l'hanno aperto ok uno schifo no ti può fare una challenge con me con un fine rip con con mentre sono torri e ceri no schifo è già difficile vincere ok mi sono gridato i soldi adesso me ne do e 50 al secondo sono tantissimi io quanto oh no io 25 ah no anch'io 25 adesso infatti ho detto quello sbagliato è come adesso prima prima era meglio adesso lo più che no no cioè anche perché vabbè lascia stare eh hai letto il suo cilio ho letto storto bravo complimenti grazie sono storto come tua nonna ecco è un problema anche tua nonna è storta tantissimo ma non è una sensa cosa che i golem è così invisibili che schifo i golem sono scarsissimi se ne fa anche oh armageddon in 5 minuti ma sono tanti 5 minuti no vediamo se possiamo andare arriverà prima di quello che ci aspettiamo puoi mandare qualcosa eh no vabbè allora mando i miei schifo di cavolo adesso arrivo fino a 3000 e mando di nuovo 6 blaze loro mando ah ok oh ok guarda qua ci sono quattro turret tower che stupreranno i miei blaze ma dove 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 nel territorio avversario in fondo verso il fondo guarda lì come sono potenti ma dove ah ma lì sono dei grissimi ma anche se sono due ma non capisco sta cosa scusa cosa ma queste qua le hai messe te no e allora perché lo dici è perché massacreranno i miei blaze se li mando vabbè comunque li mando ah capisco che tu massacrerai i blaze degli altri non so perché no no lo so sono falso ho mandato 6 blaze guardali oh no ho messo un'altra come sono fieri i miei scheletri fanno schifo li mando li mando li ho mandati i miei scheletri vai sono potenti non è vero è vero schifo dobbiamo riuscire ad arrivare all'armacchetto devo andare ad arrivare alla porta ok gli slime sono forti vero è abbastanza perché si dividono un bordello allora vediamo i miei blaze oh un blaze ancora vivo ma adesso verrà menato ne mando 12 di slime eh la madonna quanto costa eh non posso perché? perché non ho abbastanza soldi quanto costa hanno 12 slime? 18.000 porco dobbio però io lo farò quando avrò abbastanza soldi ok allora io manderò 12 blaze ok e lì li apriamo eh se ce la facciamo sì ma credo che finirà prima la partita prima di avere 18.000 ci sarà prima l'armageddon solo 4.000 e ne ha 3.000 quanto costano 12 blaze vabbè io cerco di mandargli all'armageddon 6.000 puoi donare soldi gli altri no perchè ci stanno arrivando dei pigmini in base ti dico solo quello io dico ma come no davvero non ci toccano stanno esplodendo no non ci toccano non ci hanno toccato sì un colpetto dell'amore eh gli altri quanti abitanti no vabbè non l'abbiamo toccati per niente ma si può tipo aumentare la vita del castello no sti casi mi fanno schifo non mi piacciono ehi se vivo ehi non mi senti ci so no sono miliardi vabbè io mando da città a casa no 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 ma non credo c'è ho 6.000 coins adesso quanto ci impiega tantissimo è ancora 6.000 ce la puoi fare no perché ha ricevuto prendersi per tre cori sacali che avrei raccolto uno schifo droppato dai non salverà niente non mi servono niente no è orribile quei droppi fanno schifo sono rarissimi dovrebbero dare almeno mille esatto oppure prima le hanno dato tipo 16 di xp utilità eccone eccone e non posso vabbè ho paura di spendere soldi a che oh cos'è sto caos schifo ma arriva la roba potente oh oh che cos'è sul onno anche noi abbiamo mandati 2 ah veramente e il leader dov'è oh no allora hanno mandati 56 mi sa che siamo morti anche loro hanno mandato 6 blaze mi sa che lascerò perdere i miei slime e mandare qualcosa quanto è verità sto giorni adesso non lo so ma queste leis hanno 1300 quanta roba ci stanno mandando ok siamo morti anche noi e guarda anche noi quanta roba stiamo andando è un capito ma no per me moriamo male è questa che è a vedere dobbiamo farci le frisino e quelle che stoppano almeno 12 dobbiamo frizzarli ma se mi era se li fermiamo ma 10.500 per favore fammi le veloci così mando sette slime oh se riusciamo a fermarli con le frizz oh no ci eravano potenti sono morti no 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 guarda anche no io devo devo cercare di tirargli più frizz possibili così sono più lente e così arrivano dopo e noi gli arriviamo prima potente abbiamo vinto la mia tecnica ha funzionato li ho fermati con le frizz e noi siamo arrivati più potente gg oh wow guarda quante blaze ci sono anche le villiera in mezzo quindi beef signori per questo video è tutto quindi ricordo di lasciare un bel polpo all'insù quando vi direte commentate conto aspetta no commentate ciao